Marco Meacci, nuovo presidente del Corecom della Toscana. Corecom, ok dell'aula al bilancio consuntivo 2022. La ventunesima edizione di Orizzonti Festival ha chiusi. Corecom, Marco Meacci, nuovo presidente del Comitato Toscano, succede a Enzo Brogi. Marco Meacci, nuovo presidente del Corecom della Toscana, ex sindaco di Monte San Savino, ex presidente e amministratore delegato dell'Agenzia regionale Recupero Risorse, Meacci, 56 anni, succede a Enzo Brogi, alla guida del Comitato regionale per le comunicazioni. A Palazzo del Pegaso la presentazione ufficiale alla presenza dei presidenti di regione e consiglio regionale, Eugenio Gianni e Antonio Mazzeo. Tra le prime iniziative che Meacci intende mettere in campo, un tour in giro per la Toscana per far conoscere servizi e compiti che il Comitato regionale offre gratuitamente a cittadini e cittadini. In primis le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni. Una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana in modo da farlo conoscere, far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controversie telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana e in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. Oltre a Meacci fanno parte del Comitato Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris. Illustrando i suoi obiettivi, Meacci ha anticipato anche un'altra idea, gli stati generali della comunicazione. Dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche in modo da rendere sempre più il Corecom uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. Gianni e Mazzano infine ringraziato l'ex presidente del Comitato Enzo Brogi e rivolto auguri di buon lavoro ai nuovi membri del gruppo Corecom. Il Corecom ha una funzione importantissima da un punto di vista della garanzia della garanzia della correttezza nell'informazione e di propulsione attiva nell'informazione. Il lavoro che aspetta l'organismo che sarà guidato dal presidente Meacci è quello di rimettere mano anche al sistema normativo con cui disciplina la propria attività il Corecom. Pensate che ad esempio nelle leggi che il Corecom oggi si trova ad avere come disciplina e attuazione del proprio operato manca ogni riferimento alla dimensione dei social e oggi noi sappiamo che l'informazione passa moltissimo attraverso i social e attraverso la rete internet con tutte le sue declinazioni e ciò che questo rappresenta. Insomma un organismo a supporto sia dell'assemblea legislativa sia dell'attività di giunta che diventa fondamentale e che mi porta oggi a esprimere il buon lavoro a figure, i rappresentanti nel Corecom che svolgono un'azione spesso magari non in prima pagina non in proposizione di primo ruolo ma che nella sostanza è una delle funzioni fondamentali dell'attività della regione. Intanto un grande in bocca al lupo a tutti coloro i quali si sono resi disponibili a svolgere un incarico importante per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione ma anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia, cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi e il compito del Corecom è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi per il lavoro, per l'impegno, per l'aderizione e anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno, con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. E' nell'Aula il bilancio consuntivo 2022 del Corecom. Il Consiglio regionale approva la proposta di risoluzione della Commissione Istruzione con 24 voti favorevoli e 6 astenuti. Alla vigilia della presentazione del nuovo comitato regionale per le comunicazioni della Toscana l'Aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla relazione consuntiva sulle attività svolte nel 2022 registrando 24 voti favorevoli e 6 astenuti. Nel presentare l'atto in consiglio la Presidente della Commissione Istruzione Cristina Giacchi del PD si è soffermata in particolare sul lavoro attento nei confronti dei minori a partire dal patentino digitale e alle iniziative per far fronte al bullismo. Devo dire che si conferma essere un organismo di grandissima rilevanza non soltanto per le attività che gli sono delegate dal Governo ma anche e soprattutto per le attività proprie di promozione di una comunicazione sana e di un rapporto con i mezzi di comunicazione e di informazione maturo e critico soprattutto per i toscani e le toscane più giovani. Il progetto del patentino digitale è un progetto di punta nell'ambito dell'attenzione per i minori e la Commissione ha chiesto e chiede ancora che venga esteso a tutte le scuole toscane e a tutti i ragazzi e le ragazze toscane come opportunità di entrare nel mondo dell'uso dei social e dei mezzi di informazione in modo più maturo con più strumenti di comprensione. Un'altra delle osservazioni che la Commissione ha portato anche in aula è stata quella relativa alla diffusione e promozione della conoscenza del Corecom e delle sue attività. Sappiamo che per chi incrocia le attività di questo organo la soddisfazione è sempre garantita. Quest'anno, grazie a un 25% in meno di istanze per quanto riguarda le attività delegate il Corecom ha potuto anche avere un'attenzione maggiore e una maggiore celerità nello svolgimento delle pratiche ma ci piacerebbe che molti più toscani e toscane avessero consapevolezza di che cosa fa il Corecom di che cos'è e di quanto è importante per l'informazione e la comunicazione nel nostro territorio. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la vicepresidente della Commissione Istruzione è Luciana Bartolini della Lega che da sempre sottolinea la necessità di portare il patentino digitale in tutte le scuole della Toscana accanto alle azioni utili per far conoscere di più il Comitato. A me piacerebbe che la maggior parte dei cittadini toscani sapessero che il Corecom risolve le controversie con i gestori telefonici e le risolve gratuitamente quindi bisogna trovare il modo di far conoscere questa, chiamiamola, agenzia alla maggior parte delle persone e insieme a questo anche i vari garanti il garante per l'infanzia, il difensore civico perché non sono molto conosciuti comunque su questo ci sto lavorando per quanto riguarda la proposta di risoluzione noi ci siamo astenuti perché sì, il Corecom sta lavorando abbastanza bene per quanto riguarda i minori col discorso del patentino digitale però per ora sono poche le scuole in cui è stato proposto noi vorremmo che fosse proposto cioè in tutte le scuole della Toscana e inoltre perché sette mesi ci sono sembrati veramente troppi per aspettare la nomina del nuovo CdA e del Presidente. Le risorse assegnate nel 2022 per la realizzazione delle attività proprie delegate e per la corresponsione delle indennità ai componenti del Comitato sono state pari a 658 mila euro di cui 182 mila per le attività proprie e 476 mila per le attività delegate dalla Gcom di cui 303 mila avanzi degli esercizi precedenti. Queste le posizioni di Stefano Scaramelli di Italia Viva e di Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Il Corcom è uno degli enti di fatto di garanzia che svolge un lavoro molto positivo lo deve svolgere essenzialmente gli abbiamo chiesto di farlo nei confronti anche delle nuove generazioni nei confronti dei ragazzi nei confronti di tante persone che hanno dei rapporti anche innovativi rispetto al mondo dell'informazione e della comunicazione e quindi c'è stato un nostro sostegno positivo all'attività svolta che conclude un ciclo serve anche attuare laddove è possibile sulle nostre indicazioni un po' di maggiore tolleranza nei confronti del sistema televisivo abbiamo visto in alcuni casi anche molti elementi di rigidità rispetto anche a elementi di carattere sanzanatorio rispetto a dinamiche anche nazionali e locali credo che molte volte l'impresa privata che fa anche comunicazione che fa televisione necessita anche di una forma di dialogo e di tolleranza rispetto a un'attività che comunque è fondamentale rispetto al principio dell'informazione ma che molte volte si espone a dei rischi per l'attività stessa che svolge siamo critici sul ritardo ma è perfettamente in linea su come Gianni e questa maggioranza sta governando la regione toscana qua c'è la corsa folle alle nomine c'è la corsa folle a distribuire poltrone e incarichi nei vari consigli di amministrazione poi una volta distribuite le poltrone abbiamo fatto, finito, chiuso poi poco importa se l'ente nominato parte che risultati porta che obiettivi c'entra il corecom è l'esempio lampante abbiamo nominato il nuovo vertice del corecom mi sembra a novembre dell'anno scorso siamo a giugno il presidente l'abbiamo letto sui giornali perché ancora non sappiamo se si è insediato o meno scelto da una settimana circa quindi questo dimostra cosa? dimostra che questa giunta è tranquillamente in grado di tenere sette mesi fermo un ente come il corecom un ente di garanzia per i cittadini per le comunicazioni può stare tranquillamente sette mesi fermo l'importante è aver nominato chi si è nel CDA poi se lavora, se non lavora ma come il corecom potremmo fare altre decine di esempi io ne faccio uno perché mi sta a cuore l'osservatorio sulla sicurezza stradale è un altro ente di garanzia per i cittadini sta lì, sta lì, nel limbo e questo non può essere un modo per governare una regione come la nostra Orizzonti Festival invade la città di Chiusi con teatro, musica, letteratura dal 30 luglio al 6 agosto la ventunesima edizione dal 30 luglio al 6 agosto Chiusi sarà palcoscenico della ventunesima edizione del Festival Orizzonti una vera e propria festa dedicata all'arte e allo spettacolo in tutte le sue forme che invaderà ogni angolo della cittadina è una fondazione che sento nel mio cuore perché fondamentalmente ho avuto la fortuna da sindaco di far partire il progetto della fondazione che era un'idea, un'intuizione straordinaria quella di coniugare le iniziative pubbliche con le iniziative private mettere insieme la cultura, l'arte al centro delle iniziative non soltanto estive di una città, quella di Chiusi che ovviamente fa della storia un proprio elemento di forza della propria cultura, della propria tradizione e questo torna con tutta la sua forza nelle settimane estive ed è un momento importante di crescita per la città per le produzioni di carattere artistico, per la storia ma anche per l'attrattività turistica che un festival di un'importanza del genere produce non soltanto per la città ma per tutto il territorio è un evento importante non solo per Chiusi ma per l'intera Val di Chiana un evento dove si porta avanti il concetto di cultura una cultura di alta qualità una cultura dove porta dietro un lavoro di associazioni e di tanti professionisti che danno il valore a quello che la cultura vuole rappresentare alla fine, il bene comune che può essere usufruito da tutti a tutti i livelli e a tutte le età c'è formazione, c'è distribuzione culturale e per la città di Chiusi insomma con tanti eventi distribuiti in location particolari nel paese credo che sia un valore aggiunto anche per l'intero territorio oltretutto insomma in vista anche della candidatura della Val di Chiana a Capitale della Cultura per il 2026 però devo dire che su 21 edizioni il livello culturale espresso dalla Fondazione Orizzonti dal Festival Orizzonti e dalla città di Chiusi è sempre stato molto alto per cui insomma si porta avanti un concetto di qualità e di fruibilità per tutti Teatro, musica, letteratura, mostre, visitazioni Teatro per bambini, formazione un festival diffuso per la città di Chiusi che si mostra nella sua bellezza naturale come quella delle visitazioni in scena all'ora del tramonto in barca nel bel mezzo del lago di Chiusi oppure l'incontro con la musica agli ex lavatoi da poco restaurati location perfetta per una serata di DJ set dedicata al pubblico più giovane ma anche il concerto finale del festival creato in collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano gli incontri letterari a Giardini del Duomo oppure il teatro, quello sociale ma anche quello narrativo nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto Ci siamo riavventurati a ventunesima edizione è sempre una fatica ovviamente perché ogni anno c'è novità, costi maggiori però alla proposta di quest'anno siamo molto contenti perché torniamo a una proposta culturale nuova, innovativa c'è uno sforzo a guardare i giovani perché si fa presto sempre a dire, avvicinare poi bisogna avere il coraggio di farlo e noi lo faremo proveremo a dare una risposta qualche, un po' di giorni fa Cordelli ha fatto una provocazione sul mondo del teatro, sul mondo del teatro italiano parlando di decadenza noi proveremo con le nostre forze a dare una risposta in senso positivo alla cultura e all'attività saranno otto giorni importanti e noi stiamo molto attenti sulla formazione la formazione per noi è importante creare i cittadini consapevoli e cittadini e spettatori di domani e spero anche qualcuno che si butta nel mondo dell'arte credo che sia anche questo un grande sforzo che cerchiamo di fare il festival è strutturato su 30 eventi in otto giorni quindi sono molti eventi che durante la giornata si va su tre eventi al giorno tra mostre, danza e prosa e anche una riapertura al teatro della danza contemporanea che è mancato nelle precedenti edizioni per quanto riguarda il tema scelto per questo festival è metamorfosi perché mi piaceva indagare questo tema della mutazione, della trasformazione dell'essere umano del cambiamento quindi tutti gli spettacoli inseriti e anche tutte le altre attività collaterali del festival hanno come tema portante questo della metamorfosi è un festival che rinasce dopo gli anni passati del covid che ritorna ad essere in più posti della città di Chiusi quindi andiamo anche al Lago che è una zona molto bella e molto identitaria per i cittadini chiusi è un festival che si affaccia alle nuove generazioni con anche appunto il teatro danza con balletto civile con la rete di teatro e critica che sono degli operatori, dei critici di teatro che sono invitati e faranno dei laboratori per gli spettatori diciamo consapevoli del futuro quindi ci sono i punti per creare un festival che guardi al futuro e alle nuove generazioni c'è anche il tema dell'ecologia ad esempio la metamorfosi del pianeta nel senso che ci saranno due spettacoli che parleranno di questo tema per noi sarà importante come fondazione incontrare il pubblico del futuro questo è l'obiettivo come direttore artistico del festival per noi Grazie a tutti.